ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su assassin screed origins siamo sempre in compagnia del nostro caro amico baia che qui siamo in mezzo alla strada tanto questa passando un soldato siamo non proprio esattamente nel punto in cui ci siamo salutati perché mi sono messo a fare qualche mission cina secondaria come potete vedere qui la mappa di alessandria è bella grande e c'erano parecchie missioni fattibili per per salire di livello rispetto alla scorsa volta infatti adesso mi sono rimasto a queste di livello 12 poi c'è quest'altra di livello 20 15 cioè ci sono un po di missioni su cui poi dovrei anche tornare non so se riesco a farle tutte subito però dal momento che abbiamo già raggiunto il livello 12 possiamo continuare e andare a fare questa qua la fine del serpente che dobbiamo andare vi pare di là ecco siamo qua la oppa fortuna che allora qua c'è una finestra lì voilà allora vediamo un po una scala queste sono le stanze dello scriba reale ok vediamo un po oppala sarà per questa qua e poi non ho visto dove è lucchetto bo la cassa appartiene allo scriba reale in persona eudoro un doppio fondo una lettera esimio ibis il faraone continua ad ascoltarci e rimane la nostra marionetta fai molta attenzione a siua l'uccisione dell'airone è stata solo la prima altri due di noi qui ad alessandria sono stati uccisi comunque la situazione è sotto controllo genadio sta interrogando la popolazione apprezziamo i tuoi sforzi ibis lunga vita c'è il sigillo del serpente il serpente è eudoro lo scriba reale ottimo abbiamo identificato il serpente lo scriba reale va spesso all'eterno ucciderò quello schifoso di eudoro proprio lì oppala devo andare alle terme quindi quanto possiamo fare il viaggio rapido ora qua dovrebbero esserci le allora aspetta missione fine del serpente oh merda non c'era nessuno prima che mi guardava dall'alto quando l'ho fatto all'andà aia oh sei numi devi fare un favore dobbiamo andare lì vabbè io farò un piccolo taglio mentre vado ok almeno penso che ah no no devo entrare da qua ok eh no pensavo ci fosse un'entrata mmm bel posticino no ed eccolo lì il nostro bersagno hai visto ne ha denunciato eudoro accusandolo di plagio no io non sa proprio senso da solo pare tutto l'hai vista sua moglie è tutto di vostro gramello signore posso fare qualcosa per voi signore mmm alto resta lì e come faccio aspetta aspetta resta dove sei ma cosa pensi di male ehi resta dove sei ehi hai fatto male a venire qui ma ciao ma ciao così ahahah vai affogalo ha perso il dito ha perso il dito muori e facciamola finita i dèi ti maledicano per quale motivo vuoi uccidermi? hai ucciso mio figlio di fronte ai miei occhi tu sei un pazzo al tempio di sewa quello schifoso buco di merda io non ho nulla a che fare con quella storia è tardi per mentire è tardi per mentire Anubi attente prezzo da pagare per uccidere il serpente il serpente il serpente non morirà mai figlio di apopi mi sono rete con la novanta ti attento oh olè occhi aperti i filos fuori dolore ah missione compiuta però ah gli abiti per le terme ok perfetto allora andare a parlare con Aya vediamo un po' si andiamo a parlare con Aya e poi ci salutiamo mi ha adorato il serpente e Gennadio sono morti come un animale era Eudor è morto come un animale ai bagni oh avrei voluto esserci mi ha amore mi ha adorato mi ha adorato vendetta vendetta è stata fatta nuovo livello uh perfetto un po' di riscaldamento eh eh nuova missione provo gli anubi di ehi stavo pensando di tirarti fuori adrenalina e pressione sono troppo alte ne risentono la frequenza cardiaca e gli ormoni serotonina e ossitocina in particolare che cosa è successo? Aya è qui chi è Aya? la moglie di Bayek riesco a sentirla riesci a sentirla? credo sia dovuto all'effetto smusi oltre ai ricordi di Bayek stai anche vivendo le sue emozioni no, sciocca secondo me è davvero in questa caverna spesso gli sposi condividevano la tua un'altra mummia dovremmo fare rapporto all'abstergo dopo che avrò trovato Aya se non lo fai tu ci penserò io Diana no non avrò alcun merito come sempre se seguiamo il protocollo ok la che c'è? l'effetto smosi mi sta portando da Aya ok bene la tua sindrome del supereroe sta peggiorando ok molto bene ragazzi direi che per oggi possa essere tutto la prossima volta ripartiremo da qui con Assassin's Creed Origins ambientato nel presente io come sempre vi invito a lasciare un bel like a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... alla prossima ciao belli e abbiamo preso la nostra vendetta di siua di siua grande ruina e troppo